Anche la Polizia di Stato vuole essere vicina all'ospedale San Donato in questo momento particolarmente delicato di queste feste natalizie con il Covid che purtroppo ancora è imperversa, signor Questore. Abbiamo scelto questo luogo prima di tutto perché questo è un periodo in cui anche la Polizia di Stato vuole essere vicina a chi soffre e quindi quale luogo più indicato dell'ospedale cittadino. E poi essere vicini anche a coloro i quali sono vicini a chi soffre e quindi al personale medico, paramedico, sanitario, chi si occupa degli altri, chi si occupa della salute degli altri in un momento che è ancora un momento di grande criticità. Si vede bene lo stemma della Polizia nell'albero alle vostre spalle, è stata donata questa decorazione natalizia, la palla di Natale. Che cosa approvate voi operatori? Ma è sicuramente un onore perché è molto significativo il fatto che le istituzioni anche in questo momento particolare sottolineano la vicinanza reciproca, istituzioni che negli ultimi quasi due anni ormai hanno compartecipato ognuno nel proprio ruolo a gestire l'emergenza in ambiti diversi ma spesso anche necessariamente collaborando per raggiungere poi l'obiettivo di controllare l'emergenza nel territorio e di garantire all'ospedale di poter lavorare ottimamente grazie a questo controllo e a questa collaborazione. È chiaro che quello che ci ha insegnato il Covid è che non si vince da soli, quindi questa è un'ennesima dimostrazione, quindi non possiamo fare altro che essere grati da parte di tutti i dipendenti del nostro ospedale, del nostro territorio perché questa è un'ennesima dimostrazione che la cittadinanza è con noi, che le istituzioni sono con noi e che è chiaro insieme si fa la differenza.